Ciao, innanzitutto auguri di buon anno. Come da tradizione sicuramente durante queste feste avrete mangiato un cotechino. Sicuramente non è uno degli alimenti più salutari, ma per tradizione ci sta. Il problema però si pone dopo, si pone dopo la sua cottura e qual è il problema? Il problema è questo, grasso, tanto grasso da dover pulire e ancora una volta ci viene in aiuto uno dei nostri detergenti dalle 4 E, cioè etici, ecologici, economici ed efficaci, vale a dire l'LDC che ha la capacità di sciogliere le molecole di grasso e in questo video vi mostrerò velocemente come l'LDC anche in condizioni di grasso e sporco ostinato ci può venire in aiuto. Ora con due semplici pusciate di ldc le metto sulla una spugna umida e inumidisco ulteriormente si genera un po' di schiuma e vado a pulire questa pentola bella unta, grassa. L'LDC magicamente mi scioglie le molecole di grasso e quello che deriva da questo lavaggio può diventare addirittura concime organico quindi posso innaffiare anche l'erba del giardino e cosa da dire l'LDC si attiva anche in acqua fredda infatti sto usando acqua fredda. Adesso vado a sciacquare la nostra pentola e vediamo il risultato. poi se il grasso è molto molto ostinato faccio una seconda passata sul bordo ecco qui perfettamente pulita e adesso la nostra pentola è pronta per cucinare un piatto magari un po' più sano. Bene con questo video vi auguro di nuovo buon anno! grazie a tutti! grazie a tutti! grazie a tutti!